Ed eccolo lo staff al completo di MR Catering, siamo con il titolare Pietro Mammarella. Noi siamo un catering e oltre al catering facciamo anche noleggio, il gazebo e tenso strutture. Allora MR Catering, siamo a Bacri. A Bacri, sì, in via Sant'Aca da 16, veniteci a trovare qualsiasi proposta che voi ci date e noi vi diamo quei consigli, seguite il sito www.mrcatering.it e sarete sicuramente soddisfatti. Grazie a tutti.